www.istitutokennedy.net Salve a tutti, questo pomeriggio ci troviamo in compagnia del direttore amministrativo dell'Istituto Kennedy qui a Salerno che ci parlerà di un'importante novità che ha aperto il 2015, vero? Sì, sotto un aspetto economico abbiamo ritenuto opportuno preparare un programma di pagamento di riduzione delle rette scolastiche ai ragazzi che iniziano dal primo anno fino alla quinta. Loro avranno un pagamento mensile di 80 euro, vale a dire, calcolando per tutti i mesi, sono complessivamente 60 rette al di fuori dell'iscrizione. E ogni alunno, a secondo della classe che frequenta e chiusura di ogni anno, se non è soddisfatto può anche ottenere nulla osta per passaggio ad altra scuola. Quindi c'è una sorta di livellamento ovviamente delle finanze economiche da parte dei genitori. Esatto, fare in modo che un genitore con questa retta di 80 euro possa mantenere il proprio figliolo per 5 anni da noi a meno che non ritiene di toglierlo prima. E può comunque tranquillamente farlo. Non è vingolante questa formula. Allora ragazzi, ovviamente il risparmio economico è abbastanza alto, elevato. Noi vi aspettiamo qui all'istituto Kennedy e vi salutiamo. Questa formula cresce con noi. Vi saluto e vi auguro un buon anno scolastico 2015. Salve a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.